Novembre 2015 è una data molto importante perché sono esattamente 30 anni da quando è stato effettuato il primo trapianto di cuore che nel primo anno ha una sopravvivenza del 90%, a 10 anni del 56%, a 5 anni del 76%. Sono passati 30 anni, abbiamo dimostrato quanto sia importante il trapianto cardiaco per i pazienti con insufficienza cardiaca avanzata, è un'opzione terapeutica che permette di migliorare la sopravvivenza garantendo a questi pazienti una buona qualità di vita. La maggior parte dei pazienti dopo il trapianto ritorna a fare una vita normale. Il paziente poi va seguito ovviamente nel tempo e in questo caso qual è il ruolo dell'ecocardiografia nel paziente con un trapianto di cuore? Il ruolo dell'ecocardiografia è importante perché affianca il clinico che segue il paziente cercando di evidenziare gli aspetti della funzionalità del cuore. L'ecocardiografia è importante perché ci permette di temporizzare, di identificare meglio i tempi, il timing dei successivi controlli che sono però controlli invasivi come la biopsia miocardica e la coronarografia. Per cui un esame con gli ultrasuoni che non è invasivo, non è costoso, non sottopone il paziente al rischio di radiazioni diventa l'esame ideale.